Ciao ragazzi sono Bluefire, benvenuti a BluefireTV e oggi proviamo Blackwood Prologue Eeeh, si Il gioco si presenta abbastanza interessante Io ho cercato giochi surreali in realtà Ed è venuto fuori questo Vediamo se con M si leva la musica Eeeh, no Però per fortuna non sembra un Un qualcosa di disturbante, ok Eeeh, si, ok Click text to advance Eeeh, clicca il testo, ah play si Eccola qua Ok abbiamo levato la musica e vi attacco al mio Colone sonore e partiamo Mmm, qualità? Boh vabbè lasciamo così, sembra funzionare Allora l'obiettivo di questo gioco è sconosciuto Posso saltare, si Cotis Ah posso usare anche il mouse, please Aiutati, aiutaci mamma e papà Ecco lì Sono scomparsi, no ma perché? Boh non ha senso Eeeh, vabbè vediamo E vabbè è un gioco surreale Che stavo aspettando Posso proseguire? Stupendo però, ai campi rossi Perché rossi? Boh Che paese sono? Eeeh, qui abbiamo Van Gogh Ciao Van Gogh Hey you, please Ho dimenticato il mio cane Che traduzione è? Eeeh, vicino al vecchio albero Cane è dog Perché ha messo cane? E devo andare a cercarlo Puoi? Vabbè Andare a prenderlo per me? Certo posso Non c'è altra scelta A quanto pare in quel menu Eeeh, allora torniamo all'albero Ragazzi che Adesso cambia tutto Ah, il bastone Non il cane Il cane era Allora il cane vuol dire Bastone, sì E se lo tiro il cane? Boh Avete capito Eeeh, che è successo qua? Non posso tornare indietro Cioè, appaiono così i muri Eeeh Pensavo fosse tradotto male Ma invece è un così bel gioco Stupido i fegni Eeeh, è apparso un ponte Ma ragazzi ma questo è un gioco da pazzi Cioè, cambia Che bello Mi piace Mi piace Eeeh, ma si può usare anche le frecce? Sì Appunto Ma posso Posso volare? Posso buttarmi giù? No, non credo che bisogna buttarsi giù Quindi c'è il gioco Gioco perso Boh Vediamo, proviamo Iiii 3, 2, 1 Via Geronimo Oh Easy, vero easy Di qua non si va Di qua Riproviamo Eeeh, non si sa mai Eeeh, sì Allora a sto punto si può tornare indietro Wow Very strange Vediamo l'audio Vi faccio sentire un secondo Eeeh Oh mio dio Quello Ci vuole mangiare Mi sa che dobbiamo scappare O saltargli sopra Io procedo con lo scappare Sì, ma non stare impalato Non stare impalato No, 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 no No, 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 no Cosa ha fatto? Pazzo Oh, era solo un sogno Non posso? Ah, ha bisogno di un bicchiere d'acqua Va bene Mamma mia, quanto è ciccione Cioè, sei ingrassato? È più grasso del suo sogno Boh Va a capire Eeeh Mi piace Blackwood Prologue Molto bello Mi levo anche il mouse Magari si vede Magari da fastidio Oh Così va meglio That's better Wow, 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 wow Che è quello? No, mi sparano Mi abbassati Non si può abbassarsi In sto gioco Ma chi è peccato? Oh, stavo ancora sognando Ma cavolo, ma Stai sempre sognando, amico? Sei messo malaccio Poi sti capelli viola La nebbia Si può entrare? Oh Ho trovato una strana orb Chissà cos'è un orb Boh Mi spiace non potervelo tradurre Perché non ho idea di cosa sia un orb Oh, la luce Ma io cammino e si accende Ma non si spegne Eh, allora Inutile Uh, un faro Andiamo al faro? Eh sì, per forza E ora ragazzi Cosa sogniamo? Eh Si può Tipo andare in basso Se premo in basso qua Voglio solo vedere No, la scelta giusta Era andare indietro qua Corrollava tutto Di nuovo Sempre questo che ci spara E che è? Tipo Matrix Dai Dai, ormai sai come va a finire Vai a nasconderti No Lui sta lì impalato Ragazzi, non è il lag È proprio il gioco Che vale al ralentatore Non credere in Blackwood Esci dal gioco adesso Eh Prima che tu ti faccia male No Ok Eh Ah, posso scegliere allora Ecco i due menu Magari ho sbagliato Very well Molto bene C'è una Barca Eh Ma è un gioco in cui si può scegliere Epico Va bene Dopo il mio entusiasmo Vediamo Di andare Ah Valley o Quarry Noi andiamo al Quarry Non ora a Minecraft Il mio Quarry è fantastico Il mio schiere di Quarry Vabbè Scherzi a parte Sono quelle cose che distruggono tutto il mondo di Minecraft Scavando fino alla profondità Ehi Mi sono trovato uno specchio Ehi amico Ehm Benvenuto Al contrario Ehi Wow Eh si ovvio uno specchio Che non mi aspettava Certe volte faccio dei ragionamenti stupidi Cos'è questo? Perché? Guardate come è mino Scusate ragazzi Guardate cosa sto facendo Vabbè You want to Borrow my shovel Vuoi rubare la pala? No prestare Vabbè Next to Ah Prendo in prestito la tua pala Ok basta che te la riporto Ok E cosa mi faccio di una pala? Cioè ragazzi non sto capendo niente Boh Ci sarà un'utilità per questa pala Taaa Ma se salto non succede comunque niente La pala mi tornerà utile per Oh ecco la barca Sali a bordo Salta a bordo Viaggiare alla valle? Si Andiamo alla valle Basta Noiosissimo Devo ricordarmi poi di renderizzare bene Ehi tu Cos'è? Sorry Scusa non posso parlare Sono super preoccupato Se vuoi aiutarmi Devo piantare i lilli Lilli Ah Si ok posso farlo questo Io ho anche una pala Sapessi usarla Poi sarebbe perfetto Ah l'illa è la collina comunque Quindi è qua Dig Si pianta sti cavolo di fiori Bello Ecco Così abbiamo Fiori Adesso cosa succede? Ehi Ah era un'onda ragazzi Mi stavo spaventando per un'onda Bene Adesso cosa mi dirà? Ho fatto quello che mi hai chiesto? Hmm Grazie per aver messo Prendi questi semi E tirali Ok mi hai dato una borsa di semi Ma perché mi fai fare tutte queste quest? Io cioè volevo giocare a un flash game Shull Invece Boh Mi sembra un Wow Epico Comunque mi sta piacendo un sacco Eh si grazie va bene Non ho neanche letto Eh si Già 7 minuti di quest ragazzi Incredibile Ho ottenuto un martello Bene Ora cosa farò con il martello? Andrò a distruggere l'albero No ragazzi Perché dopo aver creato tutto questo bel giardino Va bene Eh la barca Finchè la barca va Lasciala andare Andiamo al quarry Così finalmente scopro cos'è un quarry in realtà Cioè come ambientazione Di Di Palude Cioè non so cosa sia Tipo un You Will you smash the mirror With Ah vuoi distruggere il martello? Ma certo che vuoi distruggere lo specchio col martello Yeah No You will destroy cosa? Non c'è più il mio reflex? Ah si solo sbiadito nella nebbia Ma perché di là c'è la nebbia no? C'è sembra Ma di nuovo qua sono Torna Ah Alla fine gli ho riportato la pola Eh certo E beh Chi ti aspettavi eh Ma che io sono uno che mantiene le promesse Tu dimmi Lo devo fare Io lo faccio Bene E adesso mo? Ah Sono bloccato No Boh Era un bug Ah no Se salto Ah ragazzi Se salto mi blocco Ho scoperto un bug Solo qua funziona Ah 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 Bene Scopriamo Scopriamo i bug dei flash game Dunque Eh A sto punto cosa devo fare? Ah vuoi viaggiare alla valle? Beh certo Torniamo alla valle Ormai stiamo andando avanti e indietro Tra la valle e i guerri Wow E adesso? Sono nati i fiori Wow Raccogliamo margherite ora No Di nuovo tu Ma basta Cioè mi stai portando da No Fa passire i fiori No E' un infame Tipo il contrario di madre natura Ci sarà il contrario di Dio di madre natura Come si chiama? Boh Padre Boh Padre Come cavolo si dice? Padre tecnologia Boh Costis Wake up Alzasi Costis Ah il suo nome è Costis We are going to miss Stiamo andando Stiamo per perdere il treno Alla casa della nonna Bene Ok sto arrivando Wow Yeah Ah ok E' finito così Sto stupido sogno Ma era veramente surreale Non capisco Mi ha lasciato un po' lì così Ah ho trovato solo due segreti orbs Back to menu Ok Ragazzi il gioco è finito così Strano ma vero E spero vi sia piaciuto Cioè più che altro C'era surreale Vediamo che Sì qua posso tenere il menu così Spero che questo Giochino vi sia piaciuto Mi è piaciuto un sacco Soprattutto giocare Ma soprattutto la possibilità di scegliere Che non danno molti flash games Se il giochino vi è piaciuto Lasciate un mi piace Un commento E Io Ne sceglierò altri per voi Se vi piace la categoria surreali Che non ho mai visto sul web E bene Spero che sia qualcosa di nuovo Cerco sempre di non copiare nessuno Alla prossima Un nuovo video Bye bye Da Blue Fire Dalla Blue Fire TV È tutto Bye bye